segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te ora innanzitutto la premessa è che se noi siamo in grado se siamo insieme meglio cioè se riusciamo a coinvolgere tutto l'arco parlamentare di migliorare una norma e cioè creare un sistema che aiuti le regioni a fare meglio e a garantire servizi egualitari e di qualità a tutti a prescindere appunto dalle condizioni economico sociali benissimo siamo d'accordo ma se tu scrivi una riforma così come è stata scritta dal governo in questo modo che è una riforma che aumenta le disparità che non prevede nessun quattrino nessuna risorsa per colmare le attuali differenze che De Luca può fare anche sorridere ma dice delle cose giuste ed esatte tu rischi di aumentare il divario che ancora e oggi c'è e che nessun governo è riuscito mai a colmare e a non garantire livelli di prestazione di servizi uguali per tutti mi spiego è chiaro che noi come partito democratico stiamo impostando anche la campagna delle europee sul tema della sanità perché perché la sanità è in condizioni molto difficili a nord e a sud sud peggio che a nord ma anche a nord siamo messi male in termini di qualità delle prestazioni delle liste d'attesa di assenza di personale di personale pensate solo ai 70.000 infermieri che mancano che quando ci sono sono sottopagati che sono costretti a fare ritmi di lavoro stressanti e inimmaginabili e soprattutto anche per quanto riguarda la prevenzione penso ai macchinari rinviati gli acquisti di due anni per gli screening mammografie ed ocorafie è tutto bloccato quindi vuol dire che se tu imposti una riforma come questa senza prevedere i livelli essenziali delle prestazioni c'è a dire tutti i cittadini in tutti i contesti devono avere un accesso alla sanità pubblica non a quella privata perché oggi in italia se lei dice si fa un'operazione di campagna elettorale di marketing sentiamo sentiamo un attimo de luca prima di passati arrivare da angela zaro riepiamo la diretta social inshallah